ciao a tutti e bentornati sul canale nuova video ricetta oggi vi faccio vedere come è facile preparare questi biscotti morbidi alla banana avena batteri e cacao senza zucchero facili da preparare sono molto particolari perché sono super morbidi prima di tutto mettiamo in una ciotola tutte le polvere quindi 80 grammi di farina di avena potete anche utilizzare la farina normale 20 grammi di cacao amaro un cucchiaino e mezzo due di lievito per dolci potete anche utilizzare il bicarbonato ma vi consiglio di più il lievito e in un'altra ciotola in questo caso in un tritatutto mettete una banana matura e tre datteri denocciolati insieme a questi ci mettete anche due uova se avete il sostituto dell'uovo potrebbe diventare un dolce vegano e poi ci aggiungiamo 30 grammi di olio di cocco o di girasole mescolate il tutto e aggiungete questo alle polveri siccome il composto sarà molto liquido vi consiglio di utilizzare una sac à poche per poter mettere i biscotti all'interno di una teglia sopra ci mettete un po di farina di mandorle oppure granella di nocciole quello che più preferite e lo infornate a 180 gradi per circa 15 minuti e vostri biscotti saranno pronti per essere gustati sono buonissimi nel latte o comunque per merenda se questa ricetta vi è piaciuta mi raccomando lasciatemi tanti like fatemi sapere se li fate che cosa ne pensate io vi mando un grossissimo bacio ci vediamo presto in un prossimo video ciao